Sono riuscito a scappare, sono riuscito ad andarmene da quell'uomo blu strano, guardalo, olè, vedo la sua dannatombra, questo è il colore dell'arcobaleno e siamo qui e siamo là, questo è il colore dell'arcobaleno, rimoppia il senso e si torna, mamma mia, in mezzo alle fresche frasche, guarda che gruppo c'è, ma siamo tantissimi, siamo un esercito, dai, questo è il capo del gruppo, guardalo il saggio, sono riuscito ad aggirare le misure di sicurezza, è la forbice più grande di lui, che state facendo qui signori, noi stiamo cercando una soluzione ai nostri problemi, cacchio, mostri avete detto, si vanno in giro così, porca trota, ma sarà stata la vostra immaginazione, sarà stato il vento, mi aiuterete a trovare le luci di sicurezza, praticamente dobbiamo trovare delle luci per, non so, fare qualcosa, Oh no, c'è di nuovo il cattivo, colui che ha creato i Rainbow Friends, è ancora qui, è ancora in azione, no, gli ha risvegliati, verde e blu, sarà divertente, entrare per me, io vado a prendere gli altri, gli altri, ce ne sono altri, beh, dopo tutto i colori dell'arcobaleno sono molti, mamma mia, dove dobbiamo andare ragazzi, che dobbiamo fare, dobbiamo cercare qualcosa, Vi ricordo che se premo B posso diventare una scatola, sì, no, c'è blu, ragazzi, diventate le scatole, grandi, grandi, bene, per adesso se ne è andato, mamma mia che paura, che devo fare qui ragazzi, devo trovare la slurpy, 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 dimmi dove devo andare, pericolante, pericoloso qui, bravo, bravo, la zipline messo, Ma è un parco divertimento assoluto questo, ehm, scusi posso andare per di qua? No, qua qualcuno è entrato, l'hanno fatto benissimo, l'hanno fatto assunno, è una cosa magnifica, è praticamente un parco giochi abbandonato, Trova le luci e portali alla tag plaza, ok, abbiamo trovato le luci, dai, grazie, 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 prendiamo tutte le luci e portiamo indietro, quante ce ne servono? 10 su 25, dai ragazzi, dai ragazzi, io vi scorto, state attenti per averlo fuori scorticare, oh, oh, c'è un brutto mostro qui, dai 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 dai, sì, ottimo, dai, levatevi, Levatevi che dobbiamo trovare tutto qui, ma è bellissima sta cosa, vai, la Rainbow Road, straccoppiata a Mario, ma va bene lo stesso, è stato bello, sì, sì, molto divertente, però noi siamo venuti qua per lavorare, vai, presa! Ce l'ho! No, Rainbow, 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 prendetele tutte, bravi, 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 sì, 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 dove dobbiamo portarle? Qui? Sì, sì, dobbiamo unirle tutte, porca vacca, ha ucciso qualcuno, non si placa, non si ferma, bocca larga, è uno che vuole spaccare tutto, posso raccoglierne più? Sì, posso raccoglierne più di una, e allora? Oh, 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 monkey, monkey, guardalo, 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 mamma mia, guarda, fa la danza, non ci credo, dai buono, sono una scatola, sono bravo, vai, 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 sono nella Rainbow Tower, sono nella cacchia di Rainbow Tower, c'è pure il cast, non ci credo, ce l'abbiamo fatta, ok, li abbiamo trovati tutti, sì, Bim, salabim, allarme, allarme, ehi, avete sentito? Oh, oh, ce l'abbiamo fatta, aspetta, c'era davvero una luce SOS, voglio dire, siete davvero bravi, ma lui ci voleva trollare, sta arrivando il mostro, sta arrivando il mostro, attenzione, attenzione, dove vogliamo diventare delle scatole? Oh, no, non ci posso credere, venire qui è stato un errore, e tu non hai una scatola, caro mio, non puoi sopravvivere senza scatola, forse questo potrà aiutarti, una trivella per uscire, no, c'è giallo, non vedo l'ora di vedere Alcuni sono morti, ma non io, ma non io, io ho fatto finta di morire, ho il potere di risuscitare, cosa dobbiamo trovare adesso? Devo trovare del gas, infatti ci sono delle tanniche di gas, e dobbiamo prenderle tutte! Dai, bambini, io vado, prendo la zippidi, la zippidi line, divertente, ok, non proprio, dato che qui c'è il tizio verde Oh! Helicopterman! Helicopter, helicopter Helicopterman, dammelo, perfetto Piano ragazzi, piano ragazzi, qua è pericoloso Qua è pericoloso ragazzi Siamo nel castello Marcondirondirondello, avanti così, occhio Perché è vicino Bene, questo è il trono Sono il re! Ragazzi, inchiunatevi Sapete, ne ho combinati di tutti i colori Per diventare il re dei colori Non si può usare sto coso Oh! Ce ne sono altri We are a box, siamo delle sca... La laserato! L'ha laserato L'ha laserato Ma che tristezza Ma tutti qua, tutti! Ma cosa? Ti prende... Non sapevo che avessi il potere di prenderti Quindi il volo verde ti prende se sei una scatola Non sapevo sta cosa No! 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 Fermo? No, mi ha preso Non ci credo Non ci credo! Non saltare finché non trovi un posto sicuro Ma ti porti in elicottero! Non pensavo che morivo Cioè, sono rimasto sorpreso da quello che è successo Questo cos'è? È un tunnel Ok Ti puoi nascondere qua, ottimo È giusto da tenere a mente, ragazzi È pericolosa, davvero Mio, 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 mio Mio subito Qua bisogna prendere il più possibile Ecco... Oh! Oh! No! Ah, che bello essere una scatola Bravi, bravi In fila indiana, bambini! Ok, ne abbiamo trovato un bel po' comunque Ne abbiamo 13 su 15 Oh! Sta tornando l'elicopterman! Basta! Ma è enorme sto posto! Io mi ci sto perdendo! Dietro la cascata! Ma no! Si poteva nascondere qui! Il super passaggio segreto! Capi è stato trovato Vuol dire che l'hanno preso Si vedono Si vedono le ultime No, 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 no Ce l'ho! Posso metterla? Messa! Ora andiamo e via Ora purtroppo lui mi seguirà Potrei usare anche la tizia elicottero Per fare degli spostamenti Sì, le abbiamo trovata! Le abbiamo trovate tutte! Ok, le ho trovata una Grande! Dai, speriamo che funzioni Trivella tutto! Oh boy! Ah, ecco! Nella porta! Cosa è uscito? Oh no! Sono usciti altri abomini! Cosa è uscito? Cosa cacchio è uscito? Wow! Ma come sono finito qui? Un'esplosione atomica Ti ha gettato in cima alla torre? Ma è orribile! Ma ti prego! Ma ti prego! Non è possibile! Va bene tutti! Ora ci riprovo! A battervi! Prendete tutti questi Lukis Che avete rilasciato E lascerò il vecchio uomo vivere No, dobbiamo collezionarli Perché lui vuole Crearci un mostro Questa volta ha un timer! No! La cosa ha un timer! Dobbiamo farlo veloce Se no moriamo! Non posso neanche spendere i robux Siamo in pochissimi! Sono morti tutti! Solo i veri pro ci sono! Solo i veri veterani! Allora, questo è già uno Uno l'abbiamo trovato Dobbiamo prenderne altri E dobbiamo stare attenti Quindi puff Lo prendi E lo metti! Porca trota! Va bene Saranno qua in giro Sicuramente Dovei senti i rumorini? Oh cacchio! Rainbow Man Sono i tuoi figlioli Sono i tuoi figlioli Covali Oh! Lo sapevo! Prendiamolo Ma noi posso raccogliere più di uno? Mi sa di no Perché se no lo metterei nell'inventario Quindi mi tocca fare proprio Mordi e fuggi Ma Meno male che sono solo dieci Che sono solo dieci Dovremmo farcela E andando avanti per di qua Magari ne trovo qualcun altro Sì 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 Dai 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 Buoni buoni Ma non lo sento Qua non lo sento Oh Melma Vado qua Non mi puoi prendere È la casa dei giocattoli Non mi puoi prendere È proprio qui dietro Andiamo avanti Piano Piano Sì Cioè ma sta facendo io tutto lavoro? Davvero? Tutto io cacchio No Oh Melma Oh Melma Mi ha trovato Andiamo sotto così non mi può prendere E proseguiamo Stiamo andando bene boys L'importante È raccogliere Le palline E controllare che Blu Qua ha fatto qualcosa Era incontinente Saranno anche qui? Voglio andare intorno A controllare Voglio vedere se posso raccoglierne più di uno No vedi? Quanti sono? Quanti cacchio sono? 8 su 10 Dai L'ho trovato? No Ottimo lavoro ragazzi Ah Ce l'abbiamo fatta Grandi Meno male che non ero da solo Meno male Meno male che non ero da solo Aiuto Cosa è stato? Non preoccupatevi Sto bene Non c'è tempo da perdere Il mio primo piano è fallito Ma c'è un altro modo per uscire Ah possiamo spostare qualcosa Dobbiamo trovare un modo per spaccare tutto ed andare avanti Dovremmo trovare delle torte per attirarlo Dategli un pezzo di torta Ok Ci sta La torta è sempre la torta Oh oh No Cos'è? Il mostro azzurro Questo segue i movimenti Perché è così interessata quell'insetto? C'è qualcosa con gli esperimenti Siamo ancora rimasti sopravvissuti noi tre Siamo la squadra del triumvirato Fortissimo E allora si vince E allora siamo nati per vincere Natus vincere Dobbiamo prendere tutti i pacchetti di zucchero Zucchero filato Zucchero di canna Zuccherino Ok qua non c'è mai niente Mi sa quindi Mi sa che qua lo zucchero non lo troviamo Due li abbiamo già trovati Siamo bravi Potrei già andare nella zona solita qua Dove di solito qua ci sono i mostri Vedo già giallo Ho trovato un pacchetto di zucchero Entriamo così Ok non c'è nessuno Ottimo Tanto questi li possiamo collezionare Quindi in teoria Ora devo andare nella zona che odio di più La zona dove c'è il mostro delle catacombe Il mostro delle catacombe Dov'è? Oh era già qui Guardalo guardalo che brutto C'era nel vecchio capitolo Era quello che nel vecchio capitolo era dentro Oh cacchio Oh cacchio Ma c'è? C'è lo zucchero Oh melma È veloce Ma io sono più veloce Perfetto Perfetto Lui era dentro le grate nel vecchio capitolo Mi ricordo Non l'hanno mai visto in faccia a me Oh cacchio Vabbè andiamo avanti Andiamo avanti Dovremmo farcela comunque Abbiamo tutto il tempo del mondo Per fare la nostra torta Ok Questo sta arrivando per di qua Quindi vai a quel paese Oh c'è Ciano No 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 Ciano No ciano No Una scatola C'è scatola tra le scatole Proppante livello 1000 Tutti che vogliono il mio zucchero Solo perché ho del buonissimo zucchero Non vuol dire che è vostro È mio È solo mio È solo mio E lo porterò al sicuro Non prega Proprio niente Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Bravi Uno li ha raccolti tutti Un pro Un pro Io e lui abbiamo Siamo arrivati allo stesso momento E ora gli mandiamo Ah ha fiuttato la torta Guarda come viene Guarda come se la mangia Golosone Golosone Vai così Perfetto Ha funzionato Andiamo Via con le scatole Giù con le scatole Sì con le scatole Che rompimento di scatole Però No Ecco perché ci avevamo messo tanto Uno di noi è morto Siamo Rimasti in tre Bro Siamo rimasti in tre Credo Ma è risuscitato forse È morto Ma ha deciso di spendere i suoi robux Per tornare Grande Questa è la caverna Ah siamo quel vecchio Caverne di cristallo È quelli che ho speso per risuscitare C'è anche un'uscita finta qui Questa è uscita Perché c'è scritto uscita lì Magari era il modo segreto per scappare Guarda Prendi un carrello Ok Mi siedo Ok prendete un carrello Ed andate Dai Sono quella girls Let's go 20 19 Stai attento Perché sarà pericoloso Qui Dobbiamo usare il carrello Per evitare Scegli per Ah ok Dobbiamo scegliere dove andare Assieme Vai verso destra Perché vedi A sinistra c'è la roba rotta Quindi Destra Destra Non davanti Che c'è la cascata Dobbiamo scegliere il percorso giusto Ok Mi raccomando Mi fido di te Mi fido di te Andiamo a sinistra Bravissima Ora sempre dritto E tieni premuto Dove andiamo adesso Destra o sinistra Sinistra Seguiamo Mi sembra Mi sembra sinistra ragazzi Sì ok 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 Ci siamo ci siamo Bene 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 Sembrano le montagne russe Dove è finito l'altro Avevamo un amico Oh Quella è la torta No vai a destra Non farti colpire dalla torta Secondo me è meglio Che non la Prendiamo Ok Magari dovevamo Prenderla Oh Ci ha mostrato Che Vola Vai vai Corri Uh Pollo Dobbiamo seguire lui Seguiamo dietro No Dobbiamo seguirlo Dobbiamo seguirlo Ovunque vada Dobbiamo seguirlo ovunque lui vada Segui quella macchina Ho sempre sognato di dirlo Avanti 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 Perfetto Mamma mia Avanti sinistra Dritto Destra Occhio alla lava Torna indietro Sarà pericolosissimo Frega niente Abbiamo solo un compito Abbiamo sfidato le leggi della fisica qui Aiuto Ma con quale potenza Con quale assurdità Con quale voglia Soprattutto Siamo dentro il castello di blu Mamma mia Sempre col suo solito trono Che crede di comandarci Dobbiamo andare a destra A destra A destra Non dal mostro Non dal mostro Vai a destra Vai a destra Brava Mamma mia Cos'è il re quercia qui Gli alberi Dove stiamo andando Mamma mia Quanti soldi hanno fatto Rubando i bambini Quanti rubi Sinistra 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 Brava Mamma mia Sono con una intelligente Let's go Let's go Guarda quanti cristalli Grazie per averla visitata La caverna del mostro golosone Andiamo a destra Che credo sia meglio Perfetto Garage Bene Apri tutto Sì Atterraggio un po' Aia Atterraggio aia Ce l'abbiamo fatta tutti Grandi Il materasso ci ha salvato Il clò Il sederone Va bene Oh No 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 Corri 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 Scappa C'è il nemesis È giunto il momento Di correre ragazzi Non mi guardi indietro Ci sta per raggiungere Tutti gli ingredienti Sono stati trasmessi Ma io Ho trasmesso Questo devo andare qui Mamma mia Sei veloce Mamma mia Sei veloce Ha spaccato tutto Andiamo a sinistra Ragazzi Seguite il campione Seguite il campione Dobbiamo andare avanti Guardate che non c'è Going back Mamma mia Verde è morto Ma gli sta bene Gli sta bene Uh qua non ci prenderà mai Qua non ci prenderà mai Bloccato Luridello E questo cosa fa? Ma è scemo Cosa fate ragazzi? Ma siete stupidi? Ma che cacchio state a fare? Dobbiamo andare in superficie Sono sopravvissuto Alla Rainbow Friend New Oh C'è molto sopravvissuto Alla Rainbow Friend Ed eccolo il rainbow sul trono Dov'è blu? Eh è stanco Faremo tardi Alla Rainbow Friend Ho, ho, ho!